parte la sfida fra accademia calcio roma e fiumicino sc 26 vicino in maglia rossa totalmente un complotino nero ma gli ha l'opportunità per l'accademia provare entrare qui sul destro quello sinistro ancora l'opportunità della palla che danza sull'alnia di porta viene allontanata fai battere l'olio vai dentro l'olio dentro verso la porta bello quella pallone dentro ha vantaggio per l'accademia calcio roma 1 a 0 è una grande risposta qui opportunità per il fiumicino del controllo del sinistro e la pareggio del fiumicino dopo sette minuti le mani le mani davide e la golla doppio per l'offietta per Nostro Nardi Tiro da fuori ancora la parata ripasso l'acqua ancora la possibilità per calciare le 3 a 1 nel fiumicino rubata palla e deposita in rete nel terzo gol di prima di là bravo vai Nico bravo bravo Luca calma lo vedi che ti fa fuori calciata fuori da lontanissimo per il quarto gol nel fiumicino ancora la doppietta per Ricci il quinto gol per il fiumicino giocati a sopra Nardi è finita e finisce qui vince 5 a 1 il fiumicino SC26 dai rimaniamo che giochiamo ciao ragazzi